Ed eccoci qua amici di contatto, siamo appena arrivati al compleanno di Mauro De Cocinis Eh sì, anche il nostro Maurone compie 50 anni, anche se è sempre il solito ragazzino Tra poco intervisteremo tantissimi ospiti che sono venuti per questo fantastico compleanno in una location splendida, per cui restate con noi, restate in contatto e tanti auguri a Mauro That's all you gotta do, brothers and sisters out there Think about the future And don't forget the past I'm singing for my freedom Dancing to the music Making everybody happy now Cosa state parlando? Cosa parlo qua? Hello yo ladies and gentlemen, hello ciao, buonasera a tutti, io sono Dr. Felix No, stiamo parlando un attimo qui fuori onda, torniamo un attimo in onda Perché sai ci sono certi personaggi che magari collaborano con certi Allora è un po' difficile quando Si, qualcuno è scappato Però non vorrei dire perché è scappato, capito? Perché io non sono uno che dico le cose degli altri, capito? E' importante, parliamo di noi, parliamo di noi Perché poi si lavora per lo zoo e non vuole Mazzoli che devo fare io Ah, ecco, ecco No, perché Mazzoli dirige, Mazzoli dice vieni qua, vieni, vai là, vai là, zitto, zitto Mazzoli è uno molto zic, hi, Hitler, ciao Ah, così è? Ciao Marco, e grazie fratello E allora noi invece questa sera siamo qui per Mauro Yeah Nostro fratello Mauro Ladies and gentlemen, live and enjoy from 10 all'ora, agenzia numero uno veramente qui in Campania Ok, io lo posso dire perché sono quanti anni? Sono 83, 30 anni Sono 30 anni che io e Mauro ci conosciamo, adesso sapete quanti anni ho, ok? Ecco, fate due calcoli Ok, oggi veramente è la giornata più bella per questo uomo qua perché compie 50 anni Ma li dimostra? Hai visto il biglietto del Vito? No, non l'ho visto Te l'ha scritto, i miei primi 50 anni, anche se non li dimostro Mauro, tu te li senti questi 50 anni? Assolutamente no, anagraficamente possono anche avere un valore però quello che conta è quello che sta qua, quello che sta qua E quanto abbiamo ancora da dare? Diciamoci la verità Da 0 a 100? 110 Superiamo i limiti di velocità Superiamo il limite No, no, quello no, se no poi i ragazzini vanno troppo forti No, no, no Però nel senso che no, lui la sua è la battuta La sua è la battuta perché sai poi come dice Napoli poi muori, non vuol dire che lo vedi poi muori dopo Nel senso che dopo che hai visto Napoli Puoi anche morire perché hai visto Napoli Non so se mi spiego Comunque no, 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 no Mauro ha ancora da dare, ha ancora da fare e devo dire la verità Io lo posso dire perché io e lui venivamo da un sacco di anni indietro Comunque è una questione di esperienza, ok? Questo uomo c'era Oggi c'è e domani secondo me ti sarà Perché quando io lavoravo con tuo amico Stefano Secchi E salutiamo Il nostro fratello che salutiamo Gem, io te sento, ah sì, io te sento, ah sì Perché l'ho fatto, io non l'hai fatto a te Perciò, ah sì, hai capito? Comunque Ecco, questa è una piccola polemica C'era Secchi Ecco C'era Oggi Dov'è? 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 Domani Dove sarà? Invece noi Sempre un maestro che canta una canzone Aspetta un attimo Eccolo, eccolo Dove sarà? Umbertone, manca Umbertone stasera È Miami, è Miami Umberto Però verrà qui Ricordiamo? È già venuto qui il 3 novembre Ritornerà a giugno in questa struttura dove siamo stasera per il mio compleanno E si è ramaricato ma purtroppo il lavoro è lavoro e stasera doveva lavorare lì a Miami in America Dove noi saremo a marzo per il music conference We're gonna be at the music conference, your ladies and gentlemen, my friend over here And all the best girls around Hai capito che ti ho detto? Ecco Io e il mio amico saremo a Miami tutti insieme con le donne più belle Con le situazioni più belle, la musica più bella, gli artisti più bravi, eccetera, eccetera In esclusiva Contatto Television Insieme a Miami Se vuoi contatto, contatto, eh? Contatto Mauro, allora? Niente, voglio ringraziare tutti voi, tutti i miei colleghi che sono venuti qua questa sera E quelli che non sono potuti venire per motivi di lavoro Uno sta qua però che è venuto dal Veneto Vorrei che lo inquadrasse perché si è messo su un aereo sotto una bufera di neve Ed è arrivato il grande fratello Paolo Giusti I veri numeri uno si vedono in questi momenti qua Si sono dei numeri uno che mancano, eh? Mancano però Non facciamo nomi Fisicamente non ci sono, però moralmente sono stati qui e sono presenti qui Voglio ringraziare in particolar modo Gerry Calà e Umberto Smaila Che dalle loro rispettive sedi lavorative di stasera hanno scritto un telegramma E hanno telefonato stamattina per gli auguri Però la loro presenza non c'è ma come se ci fosse Poi il dottor Felix che alleggia su di noi fa sì che tutto possa andare per il meglio Allora ringrazio che sia qua presente stasera Prego, prego, per me è un piacere perché Questo uomo qua fa parte della mia famiglia come quell'altro uomo lì Il signor Paolo Giusti è il mio grande ex socio che diventerà spero ancora il mio socio C'è anche il Francesco DJ Pascarella con noi della Feel Real Records Perciò perché non siamo bene? Siamo da grandi, siamo allegri E poi il mio amico mi sei contato qua e sempre come il mio grande boss L'uomo più bello del mondo L'unico uomo che spendere 100.000 euro al giorno gli fa un baffo Eccolo qui, eccolo qui E allora tanti auguri a Mauro a questo punto E noi ci vediamo tra pochissimo perché poi dobbiamo mangiare ancora un po' Alla grande Soprattutto mangiare stasera Ci vediamo tra poco, ci vediamo tra poco Restate in contatto Ciao Contact always with Dr. Felix and the people Ciao, I love you contact Solo per numero 1 Vogliamo fare un augurio speciale a Mauro? Il mio fratellone, il mio zuppiera fratellone Grandi auguri a Mauro Altri 50 anni così, dai Grandi auguri a Mauro, si voglio bene Faccio i miei più sinceri e felici auguri a Mauro E che possa passare altri 200 di questi giorni Auguri Mauro Auguri Mauro Auguroni Auguri Mauro Auguri Mauro A mio fratello Mauro tanti 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 auguri Mauro e auguri Tantissimi auguri a Mauro, auguri per i tuoi 50 anni Dall'Oriente tanti auguri a Mauro Auguri Mauro con i tuoi 50 anni Auguri Mauro Tanti tanti auguri alla Dice Lode e al suo grande Mauro De Cocinis Auguri auguri Tanti auguri Mauro Auguri fratello Mauro Ti auguro altri 50 anni allo stesso livello Tantissimi auguri a Mauro Tantissimi auguri a Mauro Tantissimi auguri a Mauro che gli vogliamo tanto bene e ci conosciamo da 20 anni. Sabato 26 di questo mese, gennaio quindi, le telecamere di contatto saranno presenti con il seratone che farò il secondo di Umberto Smaila e il mio locale che si chiama Mamas avranno l'onore e il piacere di chiamarsi Smilas, anche Smilas, quindi Smilas Mamas, quindi abbiamo avuto l'autorizzazione di Umberto Smilas ad essere uno dei pochi locali in Italia e in Europa ad avere questa autorizzazione La serata di Smilas ti voglio, anche te al capo Il locale si trova a Telese Terme, un locale dove si mangia anche un buon ristorante che siamo aperti venerdì, sabato e domenica Vi aspettiamo Se vi trovate a passare da Telese Terme Un bacione e ancora auguri a Mauro, contatto Sempre, contatto Buonasera, lei chi è? Buonasera, io sono un amico di Mauro e sono da San Ferrara cabarettista Voglio fargli un grande augurio innanzitutto di buona salute perché Mauro merita E poi niente, sto qua stasera con i miei amici più cari Sto con Zio Filippo che ti presento Che lui è un'asse portante proprio della 10 e lode Mauro 10 e lode Siamo in buona compagnia stasera Peccato che Zio Filippo non ha appetito stasera E niente, purtroppo non mi sta mangiando niente Non mi sta mangiando niente Abbiamo il piatto vuoto Abbiamo pensato un po' di vitamine così per fargli svegliare l'appetito Va bene, facciamo contatto? Contatto sempre Auguri, auguri Cerchiamo di prendere il meglio Auguri Mauro per questi due 50 anni Per questo mezzo secolo che stai oltrepassando Giro di boa 20 anni, 25 anni Almeno un 20 in meno Quindi lascia immaginare Una trentina Una trentina È perché ho fatto un sondaggio Avrà più di 30 anni o avrà meno di 30 anni? Ma per me c'è sempre 18 anni E allora se da poco la patente 18 anni o prendi da poco la patente È perché ce l'hai dentro Non è l'esterno Qui già si è bevuto chiaramente Lo vedrete Penso che si sente Eccolo qua Eccolo qua Il panello di Nico Eccolo qua Il panello più grande Il panello più grande Più maturo Più maturo sicuro Grande Decidiamo Non è quello il problema Noi siamo tutti Peter Siamo giusto? Tutti Peter? E qualche pan? No c'è uno che non è un Peter Pan qua Chi è? È l'unico È l'unico assennato Grazie mille Grazie mille Ancora tanto auguri a te Cucini Auguri 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 Andiamo a mangiare Andiamo a mangiare Andiamo bene Andiamo bene Tutti per te Contatto Amici di contatto È il momento della torta Augurissimi Mauro Grazie a tutti quanti Che emozioni Quanti amici Che hai intorno Grazie a tutti L'emozione è grande Però siamo tutti qua Felici e contenti Vuole fare altri 50 Questi anni Te l'auguriamo E sicuramente Ne verranno altri Ancora di migliori Grazie Grazie a tutti Do you feel you're in a dream Is it a dream Amici di contatto Amici di contatto Basta andare sul sito www.contattotelevision.tv O aggiungeteci su facebook Contatto Television Napoli 2 Danna Gentile E Nick Paino Faccio anche le sue vici Perché non so dove sia È veramente tutto Vi ricordo di restare sempre in contatto Auguri Mauro Ma dov'eri Ma dov'eri